Entusiasmo e grinta, sono questi i primi ingredienti richiesti da Mr. Paolo Sosa per la riuscita del piatto della salvezza per la sua salernitana. Quest'oggi alle 15 Granata sfideranno il Sassuolo alla Rechi, accompagnati da oltre 25.000 tifosi. Enorme la risposta della torcida in vista di un match che è diventato ancora più importante dopo la vittoria di ieri sera del Verona sul Bologna. Adesso il vantaggio sulla zona salvezza si è ridotto a soli 4 punti. Con l'assenza di Cernigoi, maggiore Fazio, Paolo Sosa con un mazzocchio ancora non al meglio dovrà fare di necessità virtù per il suo 3-4-1-2. Conoceva fra i pali, il terzetto difensivo potrebbe essere composto dai congogo Pirola e Guionberra. A centrocampo nessun cambio, Coulibaly rientra e farà coppia con Vilena nel mezzo. Sul versante destro Castano è sempre scendibile, sul lato opposto ci sarà Bradaric. In attacco potrebbe esserci la novità Boteim. Il norvegese, che ha ricevuto gli elogi del tecnico in conferenza stampa, potrebbe sostituire Piontek dal primo minuto al fianco di Dia e davanti al solito Candreva. In casa Sassuolo c'è da fare i conti con l'assenza di Berardi. Per i neroverdi, davanti a consigli, probabile linea 4 col Tojan, Ferrari, Juan Tresoldi e Rogerio. A centrocampo, frattesi Maxi Lopez e uno tra Rui e Mattias Enrique. In attacco, al fianco di Laurentier, potrebbe esserci Bairami. Punto centrale nel tridente potrebbe essere, a sorpresa, Defrel, l'attaccante, sembra favorito, su Pinamonti.